La nostra regione è influenzata da un campo di alta pressione che ha i suoi massimi sulle isole britanniche, tuttavia sul suo bordo orientale scorrono correnti molto fredde provenienti dalla Scandinavia, le quali nel corso di questo fine settimana interesseranno marginalmente il nostro territorio, attesa una sensibile diminuzione delle temperature e soprattutto un vistoso rinforzo del vento dai quadranti nord orientali, ma non avremo nessuna ondata di gelo, nessun freddo di natura russo-siberiano, bensì solo un breve episodio caratterizzato da freddo moderato. Le masse d'aria che giungeranno sulla nostra regione, inoltre, saranno povere di umidità, per cui non avremo precipitazioni degne di nota, ma solo qualche piovasco nelle aree montuose che assumerà carattere nevoso a quote relativamente basse. Ma si tratterà davvero di poca roba, tanto che sarebbe quasi fuorviante parlare di nevicate. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 18 dicembre cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti lungo il settore orientale della dorsale appenninica, dove potrebbero verificarsi qualche precipitazione sparsa con spruzzate di neve intorno ai 500-600 metri. Più soleggiato invece lungo la costa, dove non sono previste precipitazioni. Temperature insensibili e diminuzione, soprattutto dal pomeriggio. Venti da moderate a forti da nord-est, con raffiche di burrasca sui crinali dell'Appennino e in mare aperto. Dalla serata, rapida diminuzione dell'intensità. Mare tra poco mosso e mosso sottocosta. Molto mosso o agitato a largo, ma con moto ondoso in diminuzione dalla serata. Domenica 19, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con locali addensamenti lungo la dorsale appenninica, ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature in diminuzione le minime della notte, con valori prossimi a 0 gradi centigradi, ma nelle aree più interne. Massime in lieve aumento. Venti deboli a tratti moderati da nord-ovest e mare poco mosso, localmente mosso. Lunedì, giornata piuttosto tranquilla, con rari passaggi nuvolosi, in un contesto termico in linea con la media del periodo. Tra martedì e mercoledì, nuova moderata diminuzione delle temperature per il passaggio di un debole nucleo di aria fredda. Da mercoledì 22, la circolazione inizierà a mutare con la demolizione del blocco anticiclonico presente sull'Europa centro-occidentale. Anticiclone che verrebbe messo alle corde dall'imponente spinta verso est del flusso perturbato atlantico. Dunque, il grande serbatoio di aria gelida che in questi giorni si sta accumulando sull'Europa centro-orientale non progredirà verso sud nel tentativo di interessare la nostra penisola, ma rimarrà bloccato e si scontrerà con le miti correnti oceaniche poco a nord delle Alpi. Sulla nostra regione si instaureranno correnti talibeccio che determineranno un aumento delle temperature, ma allo stesso tempo annunceranno l'arrivo delle piogge per i giorni a seguire. Pertanto, la tendenza per le prime due giornate delle festività natalizie, e mi riferisco alla Vigilia e alla giornata del Santo Natale, dovrebbero essere orientata verso un tipo di tempo instabile e umido, con precipitazioni, ma in un contesto termico non freddo. Invito comunque a seguire i prossimi aggiornamenti, in quanto l'analisi appena esposta potrebbe subire cambiamenti. Per tutti i dettagli dunque consiglio di visitare il sito www.meteogiuliacci.it e il gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.